Sonia Bruganelli, ecco chi vincere il GF VIP. Il grande fratello VIP è ormai arrivato agli sgoccioli, lunedì 3 aprile, infatti. Andrà in onda la finale delle reality e i telespettatori più affezionati non vedono l'ora di scoprire chi sarà il vincitore. Sonia Bruganelli è una delle opinioniste del programma e, insieme a Orietta Berti, commenta in diretta ciò che fanno i geffini durante la settimana. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair ha detto chi, secondo lei, potrebbe vincere il GF VIP. Non so se posso dirlo ha esordito Sonia Bruganelli, per motivi diversi meriterebbero Nikita Pelezon. Perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare. E Oriana Marzoli, che io non amo ma che ha creato l'apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Edoardo Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato. Sonia Bruganelli piace molto al pubblico perché nel suo ruolo di opinionista riesce ad essere sempre pungente e schietta in ogni situazione. Sono cinque i concorrenti che hanno strappato il pass per la finale del GF VIP, Oriana Marzoli, Nicolin Corvaia, Giaele Dedona, Edoardo Tavassi e Nikita Pelezon. Resta quindi solamente un posto libero per la finale, chi riuscirà a conquistarselo tra Milena Miconi e Alberto De Pisis? Grazie a tutti. Grazie a tutti.